Ciao a tutti ragazzi e oggi siamo qui su The Very Organized Thief, siamo con Axel The Very Organized Thief è un gioco in cui dobbiamo, in poche parole, rubare in una casa Ci sarà la mia versione Axel e la versione di... 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 di O-Gaming Perché il mouse si muove, cioè è un po' veloce No, ma che cazzo me ne frega Non voglio una TV Non voglio una TV Allora Allora, un tablet, una radio, una statua, ma che cazzo? La radio, dove cazzo la fanno la radio? Non ho mai giocato, porca puttana Una statua Una... merda di... E che cazzo? Ma è la statua, figli di puttana Che cazzo faccio? In realtà, dovrei... Dovrei tipo... Lo so, ma... Come si fa a muovere, cioè, l'impostazione perché non mi trovo? Forse... Vabbè, modifico come insettaggi del puntato del ciclo Ok, proviamo Ah, ehm... Sì, infatti sto cliccando, eh Ah, ecco Eh, diciamo che è un po' meglio, dovrebbe andare, però... Ma che cazzo, ma che cazzo devo prendere? Ah, stacchiamo già Ecco E... Spero che non mi sia arrivato Sì, se è arrivato Un cavo in mano Ma malamente anche L'abbiamo sopra Allora Scegliamo Il cesso Che cazzo c'è qui? Che cazzo? Che cazzo? Eh, prendi si cazzo dei soldi C'è, c'è le banconote nel cesso È qualcosa di normale, amico Non ti preoccupare Anche io c'ho... Allora... Allora... Ok, allora... Sì, qui le banconote Eh... Sì, la scatola dei gioielli Forse è arrivato perché ci sto mettendo troppo Ok, eh... Non posso... No? Io già non sapevo giocare E ho deciso di giocare così Anche se cazzo è bloccato Tipo fare così E poi così E poi... Ecco... Allora E quindi player È un... Ah no! Non te lo prendi il computer No, no, no Non sia mai Un computer non te lo rubi Che cazzo Che cazzo Ah, c'è... Ah, ok C'è un'altra cosa mia Quindi io sono qui Mi raccomando il cazzo Sì, però... Allora Un tablet Porca puttana Sì, ce l'ho quasi fatto Dai, vai, andiamo Che cazzo Che cazzo Che cazzo Allora Una radio Porca puttana Una radio Ando cazzo Che mi manca Il computer C'ero arrivato Cazzo 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 Entra chiudi Il computer Cazzo il computer Porca puttana Non prendi il computer Ah, se non può ritardare Dove cazzo lo prendo un computer Porca puttana Che cazzo è Allora Mi manca la radio Il gold Ho capito che il gold Manca Però che cazzo Cazzo Allora Io La radio Ok, potrebbe stare qui La radio La radio La radio Allora Allora Il computer Case Chissà Do cazzo Sta Allora Allora Computer Case Porca Error Do cazzo Lo prendo sto codice Do cazzo Deve stare qui in basso Allora Ah, cassetti Non l'ho visto prima Questo qui, no? Che cazzo Te chiudi un po' Che cazzo c'è qui? Che cazzo c'è qui? Chiudi te! Tronzo l'incoglionito Penso un po' addosso Alla prossima Il computer Case E poi il codice Che io non Trovo Ovviamente Sta qui No No Non ci pensiamo Né No Noi con lo scattore pentino Entriamo qui Chiudiamo E accendiamo la luce Cazzo Ho messo sul quadro tutta la casa Porca tuttana Allora Do cazzo Do cazzo Deve andare Dove è quel dove Vincoglionito Non si sa Ma porca latrina Dov'è sto codice? Dove la mette? Sta cazzo Ah Ehm Adesso Di Di Computer case Questa Di Dove è bloccato Stai giù Allora però giù c'è anche quel bastardo quindi io preferirei scappare scappare questa cave scappare oh cazzo cristo si ok allora 1206 dollari ma che cazzo c'è dio ma che c'è dio cioè ho rupo ho fottuto tutta quella roba e e mi ha dato solo 1206 dollari per una scatola di gioielli delle banconote che forse erano del monopoli e vabbè abbiamo concluso qui questo video questa è la mia versione ci ho messo 1 minuto e 9 secondi per trovare tutto e mancavano solo due cose e ci vediamo ci becchiamo in un prossimo video bella ragazzi zio zio ciao 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 Ciao